La BMX è uno sport molto conosciuto fra i giovani e viene praticato da un numero sempre più ampio di atleti, ma se per alcuni può sembrare uno sport nuovo, così non è perché la BMX nacque negli USA alla fine degli anni 60, diffondendosi rapidamente nel resto del mondo, tanto da diventare nel 2008 disciplina olimpica. Dal 2004, anche grazie alla realizzazione della pista, per la cui progettazione e costruzione ci sono voluti dieci anni, il movimento ha ritrovato il giusto slancio portando a casa, già negli anni successivi, diversi titoli italiani. Il BMX, come avete visto, consiste su uno sprint, praticamente su una pista lunga 350 metri, si parte con un cancello di partenza e lo scopo consiste di percorrere la pista più veloce possibile passando i salti e le paraboliche. Si parte in otto e, sì, tra le caratteristiche che bisogna avere in questo sport c'è sicuramente la potenza, l'agilità di pedalata e anche e soprattutto la parte fondamentale è sicuramente la tecnica, nonché la tattica, grinta e anche coraggio perché comunque passare i salti richiede una bella dose di coraggio. Le attività sono molteplici e grazie anche al lavoro dei dirigenti e genitori, la società BMX Alto Adige riesce a gestire un gruppo di atleti che vanno dai 6 ai 25 anni. Allora, abbiamo l'attività strutturata in vari livelli, si inizia inizialmente con una scuola di BMX dove abbiamo i bambini più piccoli. In questo tipo di attività nella scuola si imparano le tecniche base del BMX, si sviluppano la capacità coordinativa dei ragazzi che si sviluppano proprio dai 6 agli 11 anni. Dopodiché, in base a quando un ragazzo è progredito, passa alle attività successive che sono quelle diciamo un po' più agonistiche. Abbiamo una squadra pre-agonistica dove si passano un po' alle tecniche specifiche della BMX per poi passare con la squadra agonistica dove i ragazzi fanno delle vere e proprie gare di BMX. Il fascino della BMX è dato dal fatto di essere molto simile alla motocross sia come caratteristiche dei tracciati che come abbigliamento, divenendo dunque attrattiva per atleti di età sempre più giovane. Luca. Luca, quanti anni hai? Sei. Sei. Da quanto è che pratichi la BMX? Diciamo da un anno. Un anno. E ti piace? Sì. Perché? Perché prima lo faceva anche mio fratello e allora poi mi sono anch'io emozionato e allora l'ho fatto anch'io. Ma tu hai una bicicletta tua o te l'hai fatta prestata dal fratello? Mio fratello se l'ha comprata e lui mi ha dato la sua vecchia. Come? E tu hai preso la bicicletta vecchia del fratello? Sì. Non ne vuoi una nuova tua? No. No? Perché? Perché è bellissima. Ma oltre alle nuove leve ci sono anche atleti che da ormai diversi anni praticano questo sport con ottimi risultati. Avevo 14 anni e sono venuto qua con un amico perché c'era la pista appena aperta, avevano appena riattivato l'impianto e siamo venuti qui, abbiamo provato e mi sono appassionato. Inizialmente ci si arriva davanti a questo impianto e c'è veramente il primo impatto bellissimo perché ci sono tutte queste dune, questi salti e poi questo gruppo di ragazzi comunque ci si è trovati bene anche con il gruppo, con tutta la squadra che comunque sono diventati subito un bel gruppo affiettato. E' stato bello, più che altro il gruppo, è stato tutto da quello. Anche qui però non è tutta rose e fiori, da alcuni anni si sente la necessità di creare una nuova pista che ormai risulta obsoleta e non più idonea al livello agonistico richiesto. Dall'inserimento del BMX nel programma olimpico l'attività è molto cambiata, il livello tecnico si è alzato tantissimo e ormai anche la nostra pista che purtroppo è una pista di concezione anni 80 ormai è diventata un po' obsoleta diciamo, quindi anche per noi è difficile cercare di fare un allenamento diciamo mirato ai fini ormai olimpici e quindi siamo costretti spesso ad allenarci nelle regioni vicine come per esempio il Veneto.